ciao a tutti benvenuti alla rassegna stampa di scazza un moderato oggi parliamo del presidente argentino javier milei che lo ha fatto ancora come l'inverno scorso quando andato ad amos a dirgli quattro parole e a metterli in riga questa volta ha alzato la posta ancora di più era l'assemblea generale delle nazioni unite e gliele ha cantate ora cosa ho fatto io mi sono ascoltato tutto il video ho tradotto diciamo buona parte insomma cercando anche un pochino di aggiustare il linguaggio perché fosse più comprensibile possibile e adesso ve lo faccio leggere ma prima di cominciare come sempre vi invito già da adesso dare un cazzottone al pulsante mi piace così sulla fiducia se non siete ancora iscritti al canale youtube di scazzo moderato iscrivetevi cliccate anche sulla campanellina per essere sempre aggiornati su tutti i nuovi post che faccio e allo stesso modo iscrivetevi o mettete mi piace sulla pagina facebook di scazzo moderato adesso cominciamo e lo faccio partire lo faccio partire io mi sono ascoltato lui comincia dicendo vorrei ricordare tutti che io sono un politico sono un professore universitario di economia non era il mio scopo principale fare politica ma adesso sono onorato di essere il presidente dell'argentina lo lascio parlare ok cioè voi vedete lui che parla nel sottofondo e intanto vi leggo diciamo la traduzione rispecifico non è proprio la traduzione letterale e non è neanche tutto qua da certe parti che le ho trovate un po meno interessanti le ho tralasciate anche per non far diventare video troppo lungo le nazioni unite nate dopo la più grande guerra che abbia travolto l'umanità erano partite con i migliori auspici ma ora come spesso accade in questi casi esse hanno perso il loro scopo principale l'onu è un leviatano dai mille tentacoli e gestito da burocrati il cui interesse è quello di imporre una precisa agenda politica su tutto il mondo basta vedere l'agenda 2030 per quanto voi possiate essere armati delle migliori intenzioni quello che è chiaro è la volontà dell'onu di diventare un organismo sovranazionale organizzato in maniera socialista la vostra agenda propone di risolvere i problemi dell'era moderna togliendo i diritti fondamentali come la libertà come le libertà acquisite o il diritto alla proprietà privata voi proponete di risolvere il problema della povertà diseguaglianza e discriminazione ma le vostre soluzioni non faranno altro che portare avanti ancora di più questi problemi perché la storia del mondo ha già dimostrato che l'unico modo per garantire prosperità è quello di limitare il potere dei monarchi il diritto alla proprietà privata è ciò che dà forza all'impresa privata ed è essa che da sempre è il motore del benessere mondiale bello che sei questo ce lo aggiungo io bravo me le bravo la vostra organizzazione è stata ribaltata e ora sta seguendo un percorso sbagliato un organo nato per difendere i diritti fondamentali dell'uomo ora porta avanti un'agenda che propone violazioni sistematiche delle libertà fondamentali le vostre teorie collettiviste mirano i principi base della cre della crescita economica con 300 mila morti ucraine più di un milione di feriti mutilati l'onu mostra zero interesse a lavorare per la pace ma è più concentrata nel dire ai paesi in via di sviluppo cosa dovrebbero mangiare che tipo di veicoli dovrebbero guidare come dovrebbero utilizzare le loro risorse una serie di errori e contraddizioni porta inevitabilmente alla perdita di credibilità dell'onu agli occhi dei cittadini del mondo libero vorrei quindi lanciare un invertimento il collettivismo il darsi un tono moralista l'agenda woke stanno sbattendo contro la realtà non hanno nessuna vera soluzione davanti ai problemi del mondo di oggi o che verrà nel 2030 se l'agenda dell'onu dovesse fallire chi l'ha promossa dovrebbe farsi un po di domande sul perché non ha funzionato ma sappiamo che non andrà la storia della sinistra ci insegna che i loro programmi basati su certi principi falliscono sempre e quando questo accade poi invece che fare i conti con i propri errori gli socialisti e rincarno la dose con più repressione più attacchi alla libertà e più restrizioni in argentina lo sappiamo molto bene come va a finire il percorso fatto di invidia e tristezza porterà alla povertà all'anarchia e alla mancanza di libertà c'è ancora tempo per cambiare direzione voglio essere chiaro l'argentina sta seguendo un cambio drastido drastico da questo punto di vista noi seguiamo il principio che tutti i cittadini nascono liberi davanti a dio che abbiamo un diritto fondamentale non solo alla libertà ma anche alla proprietà privata questi principi sono gli stessi che guideranno la nostra condotta internazionale da ora in avanti crediamo nella libertà di pensiero di proprietà di parola libertà di religione per tutti libertà di commercio per tutti e soprattutto crediamo in un governo limitato quindi limitati poteri governativi questa dottrina della nuova argentina è nient'altro che la vera essenza di ciò che dovrebbe essere le nazioni unite la cooperazione delle nazioni in difesa della libertà se allora tornerà ai suoi valori originari per la quale è stata creata potrà sempre contare sul pieno supporto dell'argentina ma sappiate che il nostro paese non appoggerà mai politiche che portano alla restrizione delle libertà personali delle libertà commerciali degli individui e questo lo faremo a dispetto di quanto appoggio potessero avere certe politiche all'interno di questa istituzione bravo 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 bravissimo bravo io voglio fare una missione come giusto che sia non se fosse il contrario o evidentemente che segue scherzo moderato lo saprebbe non sto seguendo come vanno le cose in argentina già parte un paio di leggi che erano diventate diciamo terreno di polemica anche sui nostri giornali come la famosa legge che fra l'altro mi sembra che il governo menore stia facendo una legge simile per evitare certi tipi di manifestazioni che non sono manifestazioni del proprio pensiero ma sono sostanzialmente manifestazioni che fanno danno agli altri cittadini come bloccare le strade eccetera quando voglio dire è pieno di piazze in italia dove puoi fare manifestazioni senza per questo rovinare la giornata lavorativa a magari 10.000 persone ok però detto questo non ho grandi informazioni non lo posso seguendo particolarmente quindi lo ammetto anzi se c'è qualche italiano che vive in argentina vuole fare una puntata di chiacchiere fra i migrati in cui parliamo un pochino di quello che è stato questo anno di milei i cambiamenti fatti i risultati raggiunti io mi sembra di vedere che a livello economico quantomeno sia riuscito a fermare la folle inflazione galoppante che c'era in argentina da almeno 20 anni però detto questo quindi come politico diciamo nell'atto di proprio fare nuove leggi non esprimo opinioni quello che posso dire è che come a davos è andato lì gliele ha cantate ed ero d'accordo con quello che disse quella volta anche qui trovo veramente tanta fatica a fare qualche stessi tipo di critica a ciò che ha detto milei all'onu è andato e li ha disintegrati bene se vi è piaciuto questo video come sempre vi invito a dare un cazzottone al pulsante del mi piace fatemi sapere anche voi come la pensate su javier milei con un commento qua sotto sapete che tanto li leggo tutti fate già questo video perché l'unico modo di aiutare a scazzo moderato a crescere condividendolo sui vostri social mandandolo via whatsapp via telegram o comunque avendo qualsiasi tipo di interazione ricordo che potete trovare scazzo moderato anche su x di il nostro amico ilone muschio noi ci vediamo nel prossimo video state informati ciao ciao